previsioni meteo per venerdì 10 maggio al nord bel tempo prevalente con clima caldo nel pomeriggio qualche rovescio sui rilievi alpini del triveneto al centro cielo sereno o poco nuvoloso aumento della nuvolosità in umbria inserata al sud generalmente soleggiato salvo più nubi su rilievi specie tra basilicata e puglia anche con isolati temporali venti deboli da sud mari leggermente mossi temperatura in aumento